Non riesco a capire come ci sia finita. Correre in giro e lasciare indietro me stessa nel percorso. Credo che questa sia la storia della mia vita. Ho paura, maestà. È improbabile che l'interesse per la vita privata della principessa si smorzi a breve. Siamo assediati dai fotografi. Speriamo davvero che quella povera ragazza trovi la pace. Mamma, stai bene? Sì, sto bene. Anche se... è stato tutto un po' folle di recente. Finalmente sei riuscita a sconvolgere me e questa famiglia. È una vera rivoluzione. Non era mia intenzione. Davanti alla commozione del popolo, la famiglia reale continua a restare in silenzio. Che cosa vuole il popolo da me? Che tu sia la madre della nazione. Hai visto i servizi in televisione. Lei dava loro ciò di cui necessitavano. In tutto il mondo, centinaia, migliaia. E loro l'amavano per questo. Le conseguenze dell'accaduto saranno devastanti. E loro l'amavano per questo.